Teniamo aperte le porte della legalità e il tema del forum che si è tenuto al Teatro Siani del Centro Polifunzionale di San Giorgio a Cremano. E' il consuntivo di un percorso fatto dagli alunni dell'Istituto Comprensivo del IV Circolo Didattico Stanziale, proprio sui temi della legalità, come spiega la vicaria della dirigente scolastica Patrizia Tramontano-Gueritore, Anna Maria D'Alessandro. In realtà io non la definirei il termine di un'attività, anzi semplicemente un inizio, anzi noi ci auguriamo che sia un inizio, ci auguriamo che sia un inizio di una lunga attività che possa avere i suoi risultati nel tempo, questo è quello che noi speriamo e ci auguriamo. Diciamo che questo è esattamente il nostro intento, quello non soltanto che rimanga chiuso nei loro cuori, in modo tale che se ne facciano testimoni nel loro percorso di vita e nel tempo. Questo è esattamente il nostro augurio e il nostro intento principale. Un percorso che ha visto in prima linea anche il Vice Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, Bruno Miele. Questa è una manifestazione per il secondo anno che viene svolta e che io ho il piacere e l'onore di partecipare e che è necessario dare la presenza delle autorità, delle istituzioni ai ragazzi, questi sono tutti ragazzi di scuole medie, in una zona molto critica e quindi è necessario dare, inculcare quello che è la legalità, quello che è la trasparenza e quello che è il rispetto delle istituzioni. All'incontro hanno partecipato Cisare Forte, comandante del gruppo Guardia di Finanza di Napoli e Carmina Antonio Esposito, già Presidente del Tribunale di Sorveglianza, che ha sottolineato l'importanza della scuola e dei docenti nel tema della legalità. L'osservanza della legalità è un elemento essenziale per lo sviluppo di una qualsiasi formazione sociale, soprattutto poi dello Stato, della comunità. Quindi il concetto di legalità deve essere infuso nei giovani fin dalle classi elementari. Ognuno di noi può dare un contributo e l'educazione dei giovani alla legalità è fondamentale, è uno di questi contributi. L'educazione dei giovani, degli adolescenti richiede un patto educativo, un'alleanza tra scuola e famiglia. Se uno degli elementi di questo patto, nella fattispecie alla famiglia, viene meno perché inculca o comunica concetti opposti a quelli che vengono enunciati alla scuola, allora come estrema razio, come estrema soluzione, se non c'è alternativa, si imbatta anche questa strada che indubbiamente è difficile, è penosa sotto alcuni aspetti di staccare i figli, i giovani dalle famiglie mafiose. Gli alunni hanno incontrato alle forze dell'ordine l'antiracket e la comunità ebraica, come spiega la professoressa Brigida Salvi, coordinatrice del progetto. Noi abbiamo voluto fare un progetto non astratto, ma un progetto reale, calato nella realtà, invitando a scuola esperti esterni, quale l'antiracket, legalità, quale il bullismo, la psicologa, abbiamo chiamato a scuola, la comunità ebraica con l'ingegner Modiano. Quindi abbiamo chiamato esperti dove hanno dato ai ragazzi dei messaggi, messaggi molto forti. Loro hanno voluto comunicare ai ragazzi di far capire ai ragazzi di non aver paura, di non aver paura, di saper pensare, di saper agire, di saper pensare, di saper agire, quindi di essere consapevoli delle loro azioni. Il mercato è un esempio di contatto...